Oggi Aldo, Aldo, ho trovato nel bosco, nel sentiero, per andare alle cascate, una bella poltrona. Metto sotto un piccolo tovagliolo e mi siedo. Mi sento un re. Tori, prendimi. Oh, oggi Aldo è seduto su questa poltrona, diciamo, chiamiamola pure del reame, la poltrona del re. Voglio comandare, no, sono io stesso, che non voglio comandare a nessuno, ma mi piace la mia stessa libertà. I sudditi avevano delle regole. Io sono libero in tutto. Oggi sto avviandomi, dopo questo riposo, di nuovo al sentiero della cascata del Schengen, Schengen, sopra da Badia Lariana. Il re, mi ricordo, studiato in epoca passata, quanti poteri aveva sul popolo. Ora, cos'è il potere? È un qualcosa che ti imprigiona per non essere libero. Però alcune persone ci vuole un senso di comando. Se la loro vita è vuota, si sentono dispersi come un naufrago in un mare. Ci vuole un senso di comando, soprattutto tra chi è sposato tra marito e moglie. Uno dei due predomina sull'altro. Il segno del comando. Io predomino sulla mia forza mentale, dove mi permette di ragionare nell'equilibrio umano, nel più piccolo solco mentale. Io, padrone di me stesso. È difficile essere libero totalmente. Anche è difficile non avere una direzione del proprio io. Meglio sempre l'accompagnamento di un'altra persona. Però, nello stesso tempo, se sei vicino a un'altra persona, ti senti come legato. Quindi sei nell'imbarazzo della scelta. La libertà, che cos'è? La libertà è l'abbandono praticamente di una prigione. Allora ti senti libero. Ma la libertà non nasce di per sé come un albero, ma nasce dal disabbandono di un'altra cosa che ti ha appropriato. Aldo.